Uno spazio dedicato all'innovazione dei prodotti dell'azienda piacentina tra le principali produttrici mondiali di attrezzature per carrelli elevatori e piattaforme elevatrici. Questa mattina è stato inaugurato il nuovo centro per ricerca e sviluppo della Bolzoni S.P.A. di Casoni di Gariga. 22 professionisti, tra disegnatori e ingegneri, impegnati nello sviluppo dei progetti presso il nuovo centro per il quale sono stati investiti oltre 500.000 euro. Una giornata importante perché abbiamo deciso a un certo punto di investire nella tecnologia, di lavorare su espandere la nostra capacità a livello di progettazione e finalmente, come vedete, siamo riusciti a creare qualcosa di abbastanza unico, tutto sommato, avendo diversi disegnatori abbiamo aumentato il numero di persone e questo credo che sia l'investimento più bello. Viene svolta tutta l'attività di progettazione, sia per quanto riguarda la parte meccanica ma adesso anche la parte elettrica, elettronica, quindi viene sviluppato anche poi tutto il software di controllo per cui tutti i nuovi prodotti della Bolzoni vengono concepiti, realizzati, testati in quest'area. Abbiamo poi anche i nostri colleghi del reparto qualità che si preoccupano di garantire che il prodotto venga rilasciato ai nostri clienti in maniera adatta. Presente all'inaugurazione anche la famiglia di Alessandro Ghisoni. All'ingegnere piacentino, tragicamente scomparso a 32 anni nel febbraio del 2020, la Bolzoni ha dedicato il laboratorio sviluppo elettronica e software del prodotto. Siamo veramente entusiasti di questa cosa, ci fa molto piacere, qui non se lo sono mai, mai, mai dimenticati, assolutamente. Se lo sono coccolati quando lavorava qui all'inizio, lo hanno fatto crescere e poi nell'occasione della tragedia non l'hanno mai dimenticato ma neanche mai dimenticati di noi. Ci hanno sempre coinvolto come in questo caso, ci hanno aiutato anche in altre occasioni e ci hanno permesso anche di sostenere una borsa di studio che noi portiamo avanti col Politecnico di Milano. Per cui un grazie infinito alla Bolzoni, è veramente una cosa per noi bellissima.